Quindi stiamo lavorando e ragionando col governo affinché le date che si sono ipotizzate ad oggi, che sembra la data, il limite sembra essere oggi il 18 maggio, siano anticipate. Questo è un ragionamento che stiamo facendo. Siamo anche convinti di un fatto che potrebbe essere l'occasione, e ho visto che il Ministro Boccia ha fatto una grande apertura anche rispetto a questo, di dare le competenze in maniera differenziata, in maniera tale che le regioni se la vedano i propri territori. Se è pur vero che noi siamo i responsabili della salute dei cittadini, la sanità è in capo alla regione, al Presidente della regione, è altrettanto vero che si desume che il Presidente della regione con un'ordinanza possa decidere se aprire o non aprire. Allora io non ho trovato operatori, parlo delle parrucchiere, parlo di barbieri, estetisti, non ho trovato operatori che mi dicono io voglio fare la mia attività come prima, non rompete le mie palle. E sono i veneti che sono inventati le mascherine adesive, tanto per citarne una. Tutti noi abbiamo la coscienza della messa in sicurezza, però siamo anche convinti del fatto che nel momento in cui l'operatore ha la sua protezione individuale, cioè la mascherina, e il cliente ha altrettanto la sua protezione individuale, la mascherina, noi siamo convinti che questo sia più che sufficiente per garantire la salute di entrambi.